Un altro caso di contagio da virus West Nile si è registrato nel Piacentino, è il secondo da quando l'epidemia in Emilia-Romagna ha cominciato a diffondersi. Dopo l'anziana di 78 anni colpita dalla patologia di cui avevamo riferito il 25 agosto scorso, anche un Piacentino di 60 anni residente in Val Darda è stato ricoverato all'ospedale di Parma con febbre molto alta, insorta intorno a Ferragosto e imputabile al virus trasmesso dalle zanzare. Per quanto riguarda il luogo del contagio, stando alle prime informazioni, sembra che l'uomo negli ultimi mesi avesse frequentato la provincia di Piacenza ma anche la città di Parma, dove si sarebbe recato spesso per sottoporsi ad alcune cure. Proprio per questo motivo l'uomo si è rivolto al nosocomio della vicina città. Dopo attimi di grande apprensione il sessantenne ora sta meglio. Il contagio avviene per puntura di zanzara comune, non esiste un vaccino per il West Nile, si può puntare solo sulla prevenzione per evitare le punture. Secondo l'ultimo bollettino regionale del 14 agosto scorso, nella provincia di Piacenza sono state registrate quattro trappole di zanzare positive alla presenza del virus. Il periodo di incubazione è variabile e può arrivare fino a tre settimane dal giorno della puntura della zanzara.